Il 21 aprile, insieme al maestro Shaili, facciamo una intera serata dedicata a Gershin, è vero, è vero, un'americana a Parigi, Kat Vichrault e questo che il concerto fa di George Gershin, insieme all'orchestra filarmonica della Scala, al cinema, alle sette tre quarti e non dovete mancare, perché noi non manchiamo. Poi quando arriva Bollani non arriva solamente lui fisicamente, ma arriva lo swing con lui, quindi si sentirà un Gershin attraverso un altro modo di pensare Gershin, quindi ancora più ragioni perché non devono mancare. Poi non si sa mai che ci siano sorprese che arrivi Gershin, questo non si sa mai, noi gliela diciamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.